Ciao a tutti, oggi è il 12 luglio e mi sono detta, non compro Mario e Luigi Dream Team Bros perché ho sempre Animal Crossing, ci sto giocando e anche parecchio poi arriverà Pikmin 3, no no, non mi freghi Nintendo, no non mi freghi infatti ho comprato Mario e Luigi Dream Team Bros ecco appunto, non mi ha fregato vero Nintendo, non ci sono caduta ora voglio vedere come gioco questo Mario e Luigi insieme a Animal Crossing mi dovrò moltiplicare, Naruto mi servirebbe un tuo intervento, grazie imparami a insegnami che forse è più corretto corretto, oggi italiani, mi spreco con l'italiano proprio per la, per la, per la, per proprio l'accademico italiano, sì proprio vabbè, comunque, eh, l'ho preso ebbene sì, eh, non ho resistito 26 di quina guarda, proprio oggi l'unboxing lo voglio fare così così proprio, allora, come ci viene, viene se, apriamo, la, se, dietro c'è scritto Mario e Luigi in un'avventura nei sogni di Luigi viaggia attraverso i mondi, mondo reale e mondo onirico e c'è, wow, ma tutti quei Luigi sono i Luigi noidi? Mario e Luigi uniscono le loro forze vabbè, sto a leggere, guarda, questo così che poi a parte che è messo contrario che genio vabbè apro ma adesso c'è, no, ci vogliere, Leo c'è questo no, ma l'hanno iniziato a mettere il cartoncino i cartonci, bello, proprio l'unboxing al contrario vabbè questa è la pubblicità e poi la cartuccia bello, oggi proprio l'unboxing da Niko versione ed eccola qua ok vado a provare è bene, sì è giunto il momento wass ciao a tutti grazie a tutti